Orlando Fiorrigiglio difenderà volontariamente il suo titolo Super Welter dell'Europa Unita il 29 novembre a Rezzato dall'assalto del Livornese Lerni Bottai. La notizia è stata confermata da Aldo Sassoli, presidente della Boxe Calamati. La data era conosciuta dallo scorso mese di settembre. È invece una novità il luogo del match. La scelta è caduta su Rezzato, in provincia di Brescia. Le motivazioni di questo spostamento sono amare. Una è che la città di Arezzo, una delle tante, è che la città di Arezzo non è riuscita ad esprimere sponsor per coprire le spese della serata. Una constatazione amara che, tra le altre cose, lascia pensare quanto la crisi economica abbia colpito la nostra città. Ad ogni buon conto, Orlando Fiorrigiglio continua ad allenarsi come ha sempre fatto, con il massimo impegno. Contro Lenni Bottai c'è da attendersi un combattimento tiratissimo e altamente spettacolare, viste le caratteristiche e il valore delle Livornese sfidanti.